Silvina Luna, la celebre modella e attrice argentina, ci ha lasciata l'età di 43 anni nella giornata di giovedì 31 agosto. La sua lunga battaglia contro problemi di salute si è conclusa dopo un ricovero durato oltre 80 giorni presso l'ospedale italiano di Buenos Aires. Secondo quanto riportato dalla Nation, Luna ha sofferto per oltre un decennio a causa di insufficienza renale, una condizione derivata da un intervento di chirurgia estetica eseguito dal dottor Annibala Latocci. Latocci, un tempo noto come il chirurgo delle celebrità, è ora impedito dall'esercizio della professione in seguito alle denunce avanzate da Silvina Luna stessa e da altre personalità famose. Classe 1980, nata nella città di Rosario, Silvina Luna si era fatta conoscere in Argentina, partecipando al Grande Fratello nel 2001. Dopo l'esperienza televisiva aveva continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo come modella, attrice e presenziando ad altri programmi tv.